Per questo video dobbiamo ringraziare di nuovo Denis Villeneuve, che ne ha sparate una di quelle che... Diciamo che mi ha fatto un po' riflettere, dai. Allora, 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 buon cinema a tutti e bentornati su Cinefollie. Denis Villeneuve, io non voglio cominciare quest'anno con l'odio e viscerale nei confronti di Denis Villeneuve, eccetera, eccetera. Io spero che voi non siate qui per sentirmi parlare male di Villeneuve. Ma sì, un po' lo farò. Al momento in cui sto registrando questo video, io ancora non ho visto Dune parte 2. Lo vedrò? Non lo so. Nel frattempo ho fatto un video che parla di tutte le volte in cui Dune è finito al cinema o sul piccolo schermo. Lo trovate qua, nelle schede di questo video. Ma mentre mi accingo a scegliere se andare a vedere o meno Dune parte 2, Denis Villeneuve ne ha dette una delle sue. Vi lascio il link da cui sto leggendo la notizia qua sotto nella descrizione del video. Denis Villeneuve ha parlato in una delle varie interviste, questa in particolare l'ha rilasciata al Times di Londra, e ha detto una cosa relativa al suo lavoro che mi ha fatto un po' triggerare. Ve la leggo. Villeneuve dice «Francamente odio i dialoghi. Il dialogo è per il teatro e la televisione. Non mi ricordo i film grazie a una buona battuta. Mi ricordo i film grazie a una forte immagine». E poi continua, dice «Non sono affatto interessato ai dialoghi. Pura immagine e sonoro. Quello è il potere del cinema. Ma è qualcosa che non è ovvio quando ora si guardano i film». Non contento, continua a ficcare il coltello nella piaga. «I film sono stati corrotti dalla televisione. In un mondo perfetto, realizzerei un film coinvolgente che non sembra un esperimento, ma in cui non c'è nemmeno una singola parola. Le persone uscirebbero dal cinema e direbbero «Aspetta, non c'erano i dialoghi, ma non ne sentirebbero la mancanza». Questa dichiarazione è riassunto il motivo per cui io, quando scherzo su Villeneuve, continuo a sostenere che sia una truffa. Perché nel momento in cui tu mi fai una dichiarazione del genere e poi lavori a uno dei film che ha più necessità di dialoghi possibile, posso dirti che un po' mi stai prendendo in giro? Che stai facendo il naif perché va di moda farlo? Non scrivetemi nei commenti «non hai visto Politecnique, non puoi capire». Prima o poi lo vedrò sto Politecnique, ok? Ammesso e non concesso che siamo tutti d'accordo per sommi capi a questa dichiarazione, cioè il cinema non è fatto di dialoghi, quello che dice Villeneuve è che è un modo di esprimere un concetto che non va bene, secondo me. Cioè proprio non fa bene al cinema. Perché in questo modo, con queste parole specifiche, andiamo a minare una cosa molto importante, che è un settore fondamentale del film, ovvero la sceneggiatura. Voi mi avete sentito dire tante volte che il film non è la trama, il film non è la storia e la storia non è importante. Ed è vero. Io ci credo fortemente a questo, però c'è anche un altro aspetto, che la storia fa parte di tutti quegli aspetti fondamentali con i quali si fa un film. È vero, una volta il cinema era cinema muto, ma poi è arrivato il sonoro. E non possiamo prescindere dal sonoro. Ora, io sono contento quando Villeneuve dice che il potere del cinema sono la pura immagine e il sonoro. E che qualcosa che non è ovvio, fondamentalmente, sì, questo è anche vero. Però, detto dopo aver detto queste parole, cioè non mi ricordo i film grazie a una buona battuta, ma grazie a una forte immagine, il cinema non è solo forte immagini. È per la maggior parte forte immagini. Ma le immagini devono essere accompagnate da linee di dialogo necessarie e importanti. Intendo quelle linee di dialogo che sono fondamentali. Il lavoro della scrittura dei dialoghi è uno dei lavori più complessi per il cinema. E se delle volte, questo è vero, non lo possiamo negare, alcune battute possono essere tranquillamente tagliuzzate o non sono significative o quant'altro, altre battute sono fondamentali per la costruzione del personaggio. E la costruzione del personaggio è fondamentale per la costruzione della scena. E la costruzione della scena è fondamentale per la realizzazione del film. E quindi per la riuscita del film. E quindi per quella potente immagine e quel potente sonoro che dice Villeneuve. Pensate a The Zone of Interest, alla zona di interesse di cui ho parlato in uno dei miei ultimi video. All'interno del quale è stato fatto un lavoro di scrittura dei dialoghi. Incredibile. Quando c'è una persona che dice una battuta come Ah, tutte queste erbacce! E la dice in quel contesto, per non farvi spoiler, è fondamentale che quella battuta ci sia. O pensate, se lo avete visto, altrimenti vi consiglio caldamente di farlo, a The Holdovers di Alexander Payne, uno degli ultimi stra-candidati agli Oscar. The Holdovers è uno degli esempi più importanti di come i dialoghi possano fare la differenza. Di come i dialoghi, il detto e il non detto, possa giocare continuamente all'interno del film. Per cui per me questa dichiarazione è una stronzata clamorosa. La storia, la trama e i dialoghi sono tutte parti che rappresentano ciò che costruisce un film. Non possiamo dire il dialogo è per il teatro e la televisione. Questa è la particella, la parte, la sentenza più terribile. Il dialogo è per il teatro e la televisione. Pensate a questa frase, però riferita al trucco. O al... o ai costumi. Francamente odio i costumi. I costumi sono per la sartoria. Sentite come suona male. Provatela con tutti, compari. Francamente odio la luce, perché la luce è per le esposizioni dei mobili. Suonano malissimo. I dialogo è per il teatro e la televisione. Sì, certo, se si sostituisce all'immagine che deve spiegare. Ma se è rafforzativo dell'immagine che deve spiegare. È una cosa fondamentale per una buona immagine e per un buon sonoro. E per il potere del cinema. Anche perché al mio segnale è scatenato l'inferno. Non può piovere per sempre. Dov'è Batman e a casa amore che si lava la calzamaglia? Non sono cattiva, mi disegnano così. Ricorderete questo giorno come il giorno in cui avete quasi catturato Capitan Jack Sparrow? Questi sono solo alcuni esempi. Per cui la linea di dialogo rende ancora più forte quel momento, quell'immagine e quella cosa. E non ho citato film orrendi. Ho citato chi ha incastrato Roger Rabbit, il primo Batman di Tim Burton, La Maledizione della Prima Luna, il Gladiatore, il Corvo di Alex Proyas. Non ho citato film orrendi. Ho citato film che ancora oggi ci ricordiamo anche grazie a quei meravigliosi dialoghi, e quelle meravigliose linee, a quelle battute che sono rimaste lì nella storia che non saranno dimenticate come lacrime nella pioggia visto che gli piace tanto il cinema di Ridley Scott a Villeneuve e ha fatto pure Blade Runner 2049. Villeneuve, ma perché devi per forza vendermi il tuo film? Fermo restando che, lo ripeto, a me fa ridere che uno che lavora a Hollywood dica su a Hollywood. Cioè, questo è... Boh, non lo so. È un po' sottovalutare un aspetto del modo di fare cinema, del modo in cui si fa cinema. E questo un po' mi dispiace. Ora, un regista è libero di dire quello che vuole, però a quel punto, perdonatemi la provocazione, non fai Dune. Perché in Dune hai bisogno anche dei dialoghi e hai bisogno che gli attori li recitino in un determinato modo. Non puoi pensare che My Arachis, My Dune sia uguale a My Arachis, My Dune. Cioè, quella è l'evocatività dell'immagine. E il dialogo veicola l'evocatività, esiste questa parola, Boh, non lo so, dell'immagine. E poi, se pensiamo al cinema muto, poi, se volete, ditemi la vostra nei commenti anche su questo. Anche il cinema muto ha dei dialoghi. Negli intertitoli sono pochissimi. Molto spesso nel cinema muto le persone aprono la bocca e noi non sappiamo cosa si dicono. Certo, vero. Però gli intertitoli ci sono. Quindi ci sono dei momenti in cui il dialogo è fondamentale. In cui quella cosa che dice, tu la devi sapere. Buster Keaton, Charlie Chaplin sono pieni di queste cose. Quindi io credo che sia un'enorme cazzata. Questo video l'ho voluto fare proprio per fare chiarezza su questo, perché anche quando molto spesso sentiamo gente che dice che la storia è l'unico motivo per cui un film è bello, oppure gente che sottovaluta la sceneggiatura continuando a pensare che la sceneggiatura sia la trama, forse è ora di fare un attimino chiarezza su questo. La sceneggiatura non è la trama. La sceneggiatura è un testo tecnico all'interno del quale sono scritti tutti gli accorgimenti per tutti i comparti del film. Quindi fotografia, costumi, scenografia e chi più ne ha più ne metta. E all'interno della sceneggiatura ci sono le intenzioni degli attori e i dialoghi. E i dialoghi, cazzo, sono fondamentali. Sono fondamentali come vengono recitati e cosa viene detto. Quindi la cosa più terribile che dice, l'ho già detta, il dialogo è per il teatro e la televisione. Ma quando poi dice pura immagine e sonoro sono il potere del cinema, io non sono molto d'accordo con questo. Cioè la pura immagine allora è una fotografia, che è una delle critiche che faccio al suo Dune, guarda caso. Infatti con questa dichiarazione tornano fuori tante cose. Per esempio il fatto che i dialoghi vengano sottovalutati. Cioè sembra quasi che siano delle frasi molto spesso buttate lì. E allo stesso modo capisco perché il montaggio molto spesso mi dava fastidio. Perché se per lui la pura immagine e il sonoro sono il potere del cinema, allora tutto il resto è sottovalutato, perdonatemi. La pura immagine, quando tu mi dici, ah la pura immagine è il potere del cinema. Sì, ma è anche il potere della fotografia. È anche il potere, se vogliamo, anche del teatro. Perché la messa in scena, la struttura teatrale, eccetera, può essere anche del teatro, ma prettamente della fotografia. La pura immagine è il potere della fotografia. Il sonoro, il suono, il suono è il potere della musica. Il suono, il potere dei brani musicali, eccetera. E allora qual è il potere del cinema? Faccio un passo alla volta. Il potere del cinema è la luce e il montaggio. Perché senza la luce e senza il montaggio non fai cinema. La luce e il montaggio sono fondamentali. Anche quando una volta non esisteva il montaggio, quando una volta si giravano le cosine in pellicole e poi hanno cominciato a legare le bobine una dietro l'altra, anche quello in un certo qual modo era montaggio. Il montaggio è ciò che rende il cinema cinema. E ciò che non lo rende teatro filmato. Questo è il cinema. E la luce senza quella non lo fa il cinema. Quindi vogliamo semplificare all'osso? Il potere del cinema è il montaggio assieme alla luce. Ma in realtà il potere del cinema è la mescolanza di tutte queste cose. Il cinema è un'arte complessa proprio perché mette insieme tante arti diverse. Letteratura, nella sceneggiatura e nei dialoghi, quindi scrittura. Immagine, quindi fotografia, quindi composizione delle immagini e tutto quanto. Sonoro, quindi appunto musica, quindi effetti sonori, quindi acustica, quindi ingegneria del suono. Teatro, perché poi il movimento degli attori e tutto quanto. Anche il teatro fa parte di questa settima arte. Ed è per questo che è un'arte molto complessa. Perché tutte queste cose devono convogliare a fare un unico grande risultato, che è il film. E se mancano i dialoghi? Possono mancare, ma deve essere una scelta. Uno dei film che vi consiglio, che non hanno parole, anzi ne hanno una alla fine, è The Artist di Michel Azanavichu. Premio Oscar al suo anno come miglior film, ne aveva vinti tanti altri, credo miglior attore e qualche altro premio, che ora mi sfugge perché mi è venuto in mente proprio adesso, per cui io ve lo consiglio caldamente, The Artist, è un film molto divertente sull'arrivo del sonoro, in un periodo in cui stava morendo il cinema muto, e lì si capisce perfettamente come l'arrivo del sonoro e quindi dei dialoghi hanno cambiato tutto. E oggi anche i dialoghi fanno parte di come si fa un film. Fatemi sapere la vostra opinione qua sotto, ovviamente su questo argomento, se volete sostenere Cinefollie ci sono gli abbonamenti, ad alcuni degli abbonati sono dedicati dei video esclusivi che usciranno sempre su questo canale, per cui tutte le informazioni sono qua sotto nei commenti. Ricordatevi ovviamente che ci sono anche tutte le altre piattaforme social sempre qua sotto, insieme a Spotify, il Cinema Fuggente, e al canale Telegram dove faccio sempre uscire tutte le anticipazioni e tutte le cose che, insomma, le dico prima su Telegram. Seguite anche, ovviamente, qua sotto, Morti di film e film da vedere prima della morte del cinema. Cos'è? Ancora non lo sapete? Andate a cliccare, così lo scoprirete. Abbiamo parlato anche di Dune in quel fragente, e quindi di Villeneuve. Eh, lo so, basta. Quando finisce, quando esce Dune 2, quando me lo vedo e semmai ne parlerò, poi basta, non parliamo più di Villeneuve fino al suo prossimo film. Buon cinema a tutti. Alla prossima. Ciao.